La direzione investigativa antimafia sul decreto della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani ha confiscato beni per 300 mila euro a un imprenditore di Castelvetrano del settore delle scommesse. Le indagini partono dall'operazione Anno Zero del 2018 che ha portato alla condanna a 16 anni dell'imprenditore dopo che diversi collaboratori di giustizia avevano confermato l'espansione nella Sicilia occidentale di agenzie di scommesse affiliate a siti di gioco online riconducibili all'imprenditore in questione molto vicino al superlatitante Matteo Messina Denaro che elargiva soldi ai familiari del latitante capo del clan di Castelvetrano e all'organizzazione mafiosa. Alcanto al sito legale messo su per le scommesse l'imprenditore ne aveva creato un altro illegale movimentando denaro contante con il sistema Skrill che eludeva la normativa antiriciclaggio. La ricostruzione eseguita, dice il giudice, evidenzia le modalità attraverso le quali il proposto pur non essendo inserito organicamente nel sodalizio mafioso contribuiva in modo significativo al sostentamento economico dell'associazione mafiosa. Entrava in affari con la mafia che richiedeva un pensiero per familiari di mafiosi in difficoltà. La confisca riguarda l'intero compendio anziendale delle due società di capitali e una ditta individuale con sede a Palermo e a Castelvetrano operanti nel settore della ristorazione e dei servizi informatici di gestione sale e gioco e scommesse.